Oggi sono venuto qui, alla settimana della Biarchitettura, a presentare l'ultimo nostro lavoro che ci interessa far conoscere, che è appunto un edificio in Ixlam, il primo edificio in Italia ad avere ricevuto la certificazione GBC Home. GBC Home è un protocollo LEAD nato dal GBC Italia, è un protocollo che sostanzialmente premia la sostenibilità, il risparmio energetico e l'assalubrità degli edifici. E questo che oggi andremo a vedere è un edificio che ha ottenuto il punteggio massimo in questo protocollo che è il Platino con 89 punti. È un edificio, come lo definisce la stampa su svariati articoli, al top, nel senso che ha una serie di aspetti in cui eccelle, quale ad esempio appunto il risparmio energetico, i costi ridotti, la sostenibilità intesa come bassissimo impatto ambientale, la domotica e la gestione di tutte le appiarecchiature impiantistiche, il fatto che non utilizza energie derivanti da combustibili fossili, ma tutte le energie sono derivanti da fonti rinnovabili, quale ad esempio la geotermia, il solare, il fotovoltaico. Tutti questi aspetti che concorrono a dare punteggio nella certificazione LEED lo rendono un po' un gioiellino dal punto di vista edilizio, senza andare a impattare l'ambiente, il sistema circostante.